l'arma di oggi è un chiaro estrag di overwatch infatti è letteramente may di overwatch raggio laser che congela e spuntone di ghiaccio che se andate a fare colpo critico su nemico congelato fa tanto danno ma veramente tanto ed è una meccanica non è qualcosa di strano vedete anche che i nemici hanno una sorta di debuff diverso quando vengono congelati danno come una sorta di au aura diciamo congelante che di solito non hanno però non è così facile da utilizzare come sembra ora quindi qual è la sua meccanica innanzitutto il raggio laser è un laser congelante quasi classico la differenza diciamo è che appunto deve congelare i nemici per rendere l'arma utile quindi dovrete colpire sempre lo stesso nemico senza pause se andate a colpire gli altri nemici sarà poi più difficile congelarli dovete concentrarmi su un nemico alla volta una volta che avrete congelato un nemico dovrete passare allo spuntone di ghiaccio mirare la testa e fare headshot in questo modo non solo farete più danno perché lo spuntone di ghiaccio fa più danno del laser ma anche perché quest'arma ha un bonus se lo spuntone di ghiaccio va a fare danno critico farà al 720 per cento di danno invece che il 200 per cento di danno quindi il critico invece di essere un per due è per praticamente sei volte un pochino più di sei volte il danno direi che è un ottima ottima aggiunta l'unico problema appunto l'avete notato è un laser estremamente preciso quindi sui nemici non piccoli quelli cioè sui decimi piccoli magri veloci sarà molto difficile utilizzare e inoltre non funziona sui boss perché non li potete congelare per cui potrebbe andare meglio vi consiglio un'altra pistola che sicuramente meglio comunque se vi interessa trovare questa la potrete trovare andando a sconfiggere il kukua jack al negun ne shai indicato questa mappa con un segnalino nero e sì vedete che questo nemico non si sta congelando bello né grazie a tutti